Ben trovati amici del Centro Meteo Italiano, ondata di caldo africano sull'Italia con le temperature che aumenteranno da nord a sud. Le zone interne di Toscana, Lazio e Sardegna saranno le più calde con le temperature che potranno toccare i 40 gradi. Clima torrido mentre sarà più affoso sulle coste. Caldo in pianura padana con punte fino a 36-37 gradi. Attenzione all'AFA che giocherà un ruolo importante con gli elevati tassi di umidità che potranno far percepire temperature prossime o superiori ai 40 gradi. Da segnalare anche le elevate temperature in quota con lo zero termico prossimo ai 5000 metri al centro nord. Anche nelle vallate quindi sono attesi valori giornalieri molto elevati. Previste anche notti tropicali con temperature minime che faticheranno a scendere sotto i 20 gradi su buona parte delle città italiane. Per tutti i futuri aggiornamenti su quest'ondata di caldo africano visitate il nostro sito, iscrivetevi al nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meti Italiano!